Come conoscevi tutto il ballo? No, seguivo soltanto te. Tu seguivi me? Sì. Oh, mi sono... ho sbagliato a metà. Il tip-tup è una novità per me. È un mezzo molto espressivo. Che cos'è? Sono lo spirito del Natale presente. Come il canto di Natale? Pensi che trovi tanto intrigante quello che c'è dietro la porta, io? Neanche un pochino curioso? Accidenti! Quel primo salvataggio. Era un bambinetto malato. Come si chiamava? Il piccolo Tim. No, no, no. Un bambino dolce, una stampella. Il minuto Larry. No, il piccolo Tim. Micro Michael, super mini Steve. On va. Che... 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 Grazie a tutti.